Conciullare, perché capisci? La migliore difesa è l'attacco. Ma qual'attacco? Che dici? Ecco, siccome sospettavo che ci fosse qualcuno lassù, io ho pensato che era meglio di non stare qui con la mano in mano. E allora, capisci? Parla. Ecco, sono andato su a ispezionare, a verificare, a sondare. Solo per questo? Sì. E hai sondato? Al giocchi. E allora? Mi sono reso conto che Caterina è una donna straordinaria, stupenda, meravigliosa. E se tu l'avessi sondata come l'ho sondata io, non staresti più qui a fare la guardia, te lo assicuro. Allora possiamo stare tranquilli. Sì, ma certo, possiamo stare tranquilli da nozzo. Ormai non ci resta altro che aspettare la scadenza dei nove mesi. Minchia, le rete natue!